Percepire il senso tragico se non si sfugge al confronto con il dolore. Solo in questo modo l'uomo riesce a prendere coscienza della propria esistenza e superare le sofferenze. E questo è il senso della mostra, intitolata Via Crucis, inaugurata ieri sera nello spazio espositivo Purgatorio, curata da Sandra Tornetta. Un viaggio attraverso le 14 stazioni della Passione di Gesù Cristo, interpretata da 14 artisti, ognuno con la propria tecnica, la propria visione, il proprio approccio e il rapporto tra l'uomo e il dolore. In esposizione le opere di Battaglia, Bruno, Catanzaro, Crapanzano, Faraone, Gulino, Masullo, Patti, Proietto, Rizzo, Rizzuti e Sclafani. Un'occasione per ricordare gli scomparsi artisti Barne e Pandolfo e riammirare la loro arte. Via Crucis, un'occasione questa mostra, che attraverso un percorso che ha anche analisi interiore, in cui ogni artista, dialogando con la sofferenza, ci rivela la condizione tragica dell'esistenza umana. Via Crucis, spazio Purgatorio, fino al 21 aprile.